Il fracking, ovvero la controversa tecnologia per la ricerca ed estrazione del gas di scisto, anima il dibattito politico europeo. Una netta apertura verso il suo impiego è arrivata dal commissario all'energia, Gunther Oettinger. Rappresenta per l'Europa un'opportunità per la competitività, ha dichiarato nel corso di un'intervista al quotidiano tedesco Die Welt ed è nell'agenda di questo anno. A due giorni dalla vertice europeo, la strada verso un'intesa appare la stricata di ostacoli. Il procedimento per fratturare le rocce ed estrarre gas e petrolio contrappone i governi, con la Germania e la Polonia favorevoli di ricorrere a questo processo per ridurre la dipendenza energetica e la Francia, che lo ha già vietato. Appesare sono le obiezioni degli ambientalisti sulla pericolosità della tecnica che rischia di contaminare le falde idriche sotterranee.